Oh i cagli di tutti i zagarezza, io sono Genius39 E ci sono anch'io, Stone Oh i cagli di tutti i zagarezza, io sono Genius39 Come cazzo l'ho detto? Sono Genius39 e siamo qui in questo nuovo video di Elseworld In questo video sono da solo e non c'è Stone per il semplice fatto che la connessione non è ancora tornata Non so se questo video lo vedrete prima o dopo il terzo episodio delle Lucky Wars Ma penso prima perché Elseworld da un po' che non lo carico Comunque in questo video avevo intenzione di fare l'isola di Ereda Però ho provato ad avviarla, ma bisogna avviarla per forza in F8 E nessuno la vuole fare, quindi ho deciso di fare le missioni dei Power Up Devo sconfiggere i mostri sui campi con Exp, escluso Ruben Ora fa vedere se qua posso ucciderli oppure devo andare più avanti Non lo so, mi sa di no eh Non posso ottenere i punti di esperienza Quindi qui no, perfetto In che città siamo? Siamo non lo so Vabbè ci teletrasportiamo A Peita, no al campo militare vai Al campo militare che dovrebbe essere lì vicino a Peita Penso Cosa succede? Cosa succede? Vuol dire che si c'è una quest Quindi si Che è successo? Vabbè, oh Cosa vuoi? Allora Quanta cazzo di gente c'è sta qua? Che musichina figa Non ci sono mai andato qua eh Andiamo un po' Questo cos'è? Vanessa, cosa fai te? Sei l'uno che può porre fino alla decadenza del regno Ok ma Va bene ma che devo fare? Non vi conosco Vabbè io me ne vado nella strada della ricchezza Vediamo un po' se ci stanno mostri da combattere E da uccidere per queste missioni di power up Vediamo un po' C'è qualcuno? Teoria sì Ok Vada lì Ah questi quelli l'avevo fatti con stonno un po' di tempo fa Però non so se l'avevo L'avevo registrati Però No che cazzo Mi sto combattendo contro il tizio Non lo so Oddio oddio dove sono? Oddio vieni qua Vieni qua stronzetto Brontolio di stomaco di stone Ci sono anch'io stone Ok Va a vedere se Non capisco Mostri sui campi Questo è un campo Perché non mi da niente? Non lo capisco proprio eh Non lo so Questa qua mi ha invitato nel gruppo No non lo accettiamo Seria un fan mi dispiace ma non posso Posso accettare i gruppi Ok sì sì posso Posso uccidere questi qua Me li droppano quindi Oddio 200 ne devo uccidere Magari Non li ucciderò tutti Oppure se me li droppano tutti così sì Per fare una cosa intanto Mettere il quadrifoglio Allora quadrifoglio No qua il quadrifoglio Ok utilizziamolo E uccidiamo tutti Vieni qua stronzetto Non c'ho voglia di perdere tempo Quindi boom Ce le trovi i particelli Ucciso entrambi E entrambi ci hanno dato roba Lì c'è una tizia Che non so se È un mob oppure una persona Questi qua fanno più schifo Dei miei Quindi li buttiamo Uccidiamo questo Questo qua non ce li droppa mai Quelli potenziati mai eh Fa vedere Vieni qua amico No non me li devi uccidere Li devo uccidere io Stronzo Oddio mi sta laggando tutto Non capisco perché Chi sono Mano del buio Truppa Vargo Ecco Ok perfetto Spai che muovi li vado a uccidere Non capisco perché sto laggando Così tanto Di fps Di connessione Non sto laggando Stranamente Ok dall'altro lato C'è un add Del Tracciatore del tempo Penso che ha fatto una skill Che non ho mai visto Ma sembra essere abbastanza figa Ma vabbè Io intanto sto combattendo Contro questo qua Che mi dà del codardo Ma ormai è morto Ok Mamma mia ancora 9 9 su 200 Oddio Oh sono riuscito a salire Sì Vai vai Tutti quanti fa le skill Boom boom Andiamo Dai vai così Quanto cazzo di vita C'ha questo Ancora full vita Praticamente Oddio Questi qua sono forti Sono molto forti La gente qua Gli sta massacrando Non ci capisco più Un cazzo Un cazzo si capisce Sto attaccando qualcuno Ma non so chi Oddio Che è sta G enorme Questi qua però Non droppano Le cose che mi servono Oddio Perché adesso sto attaccando Questo qua Totalmente a caso Se stavo combattendo Contro quelli Boh non lo so Non sei morto Muori 10 su 200 Eeeh Diciamo che siamo a buon punto Tantissimo Guardalo Quest'ad Ok abbiamo ucciso I truppi De vargoli Ah ok Così questo qua E' un mob Anche se assomiglia A un essere normale E' un mob Perfetto No Che cazzo cade in terra Ok è morta La gente li trova I bauletti Non troviamo un cazzo Ovviamente A parte sta merdaccia Qui Aspetta ma questa qua Si uccide Si si uccide Vieni qua Astronauts Però non Ah ce li troppa Ce li troppa Vabbè ragazzi Però sono Un po' troppi Aspetta Questo No non volevo andare di qua Ma vabbè Morite Bomba E' un troppo figo Ucciderli così Cioè è bello Smetti di dire Allora questi qua Sono morti Ok quello lì Io ho usato Ma di che livello Sono questi Ok ho finito La crescita di potere Ma non è un problema Qua intanto Non mi levano un cazzo Siamo già Senti Uccidiamo i cosetti Qua Gli elfi Che sono più semplici Da uccidere Finiamo prima E Bene Si fa Ricevi i punti Uno della gilda Perfetto Io non ho ancora capito Come si ricevono Sti punti A volte mi capita Non so Se è il capo A mandarmeli Oppure Hai totalmente casuale Facendo qualcosa Boh Ho sprecato un canone Impulso No non l'ho sprecato Perfetto Uccidiamo questo E mi ho gs3 Contemporaneamente C'è una da t3 Perfetto Te mori Anche se spreco la skill Per te Non mi importa Ho colpito pure Quelli sotto Quindi va bene Lo stesso Ma guarda Come corrono Ma codardo Cosa codardo Perché ti sto colpendo Alle spalle Ma se fai schifo Ti uccido pure Se stai davanti Ma cosa vuoi Ma torno a farti le canne Allora Intanto stiamo raccogliendo Sempre sta da mangiare Questa qua sta crepando Non lo so Che livello sei Che non riesci a uccidere Questi cosi Fanno schifo al cazzo Vieni qua Stronzo Perché non mi fa Stronzo Allora buttiamo questo Oddio no E' sparito Sto controllando A pigiare X totalmente a caso Perché non sto vedendo Fatti i fulmini Quando li voglio fare Non li riesco mai a fare Quando non li voglio fare Invece li faccio Totalmente a caso Allora te mori Non mi fotti la kill Perfetto 29 su 200 Oddio Oh un altro Vieni qua Non so se lasciarveli Tutti quanti Oppure tagliarveli E andare direttamente Agli ultimi Non so che farò Come l'ultima opzione Perché se no Ci si mette veramente troppo Tanto è sempre la stessa cosa È monotona Oppure vi parlo di qualcosa Ad esempio Parliamo dell'aggiornamento Di Elseworld Penso abbiano fatto Soltanto un aggiornamento Grafico E devo dire che Mi piace abbastanza La nuova grafica Di quando finisce un pvp O un dungeon L'unica cosa è che Prima era molto più bellino Perché c'erano le animazioni Quando tipo Vincevi il dungeon Oppure Il pvp Veniva la musichetta bellina Con Tutti i punti Che si accumulavano E poi te li dicevi Tutti contemporaneamente Voi cosa ne pensate Di questo aggiornamento Vi piace Non vi piace Fatemelo sapere nei commenti Sono curioso di sapere Cosa vi passa Per la Per la pensa Cosa vi passa per la pensa Italiano corregiuto Nuove parole da genius Per la testa Ok Comunque ragazzi Questo Vi volevo chiedere Come argomento Magari Ditemi pure nei commenti Se volete Che vi parlo Di qualche argomento Anche che non tratti Videogiochi O elseworld In particolare In questi video Di elseworld Magari quando sono da solo Perché quando sono Con stone Non si sa O facciamo Iwp Oppure Che cazzo Ha fatto Oppure Facciamo Dungeon Che ci servono Per le quest Poi ho pensato Poi di fare Del live Su elseworld Il problema È che la mia connessione Fa abbastanza schifo E quella di stone Tra un po' La cambiano Ad esempio E adesso non ce l'ha E se Fa lui le live Non so come verrebbero Perché non ha programmi Per farle E quindi boh Comunque Quando avrò una connessione Migliore Verso Ottobre Novembre Dovrei averla Quindi Diciamo Manca ancora un pochetto Potrebbero succedere Un botto di cose In questo lasso di tempo Però Se vi piacerebbero Delle live Da ottobre Magari una volta a settimana Ci incontriamo Iwstone La domenica O il sabato Non lo so A fare queste live Su Elzwood Magari insieme a voi Facciamo dei pvp Nelle stanze D'allenamento Ci aiutate a fare Dungeon Eccetera eccetera Ci date roba Se volete darcela Tramite la cassetta postale Di Elzwood Ovviamente Se vi piace questa idea Deticelo nei commenti E lasciate un bel mi piace Bene ragazzi Detto questo Direi che Vi risparmio la parte Dove uccido tutti i mostri Qua Intanto prima però Mi curo E quindi Ci vediamo Appena Arriverò Tipo a 190 Mob Uccisi Quindi si Ci vediamo dopo Ragazzi Ok ragazzi Rieccoci qua Sono come vedete Sono in un gruppo Di persone Perché Mi hanno gruppato Per finire Prima Il coso Perché si vede Che anche loro Devono fare i mostri Sull'esperienza Qua Infatti Facendo così Anche se li ucciscono Loro Li guadagno pure io Infatti siamo Già 187 Tipo Ne abbiamo fatti Da 40 A 189 Che abbiamo fatto Appena adesso In pochissimo tempo Tipo 10 minuti Ma nemmeno Perché Siamo in tipo In 4 Sì siamo in 4 In gruppo Ok Ho sprecato Non l'ho sprecata Perché non l'ho fatta Comunque Ragazzi Volevo dirvi anche un'altra cosa Ovvero L'elettro terremoto La mia skill Ma avete detto Di metterla Il problema È che Io ho fatto Tutte le missioni Di Camilla Per ottenerla Grazie Al libro Dell'addestramento E bla 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 Eccetera eccetera Il problema È che Io ho già preso L'altra skill A fianco Che non mi ricordo Come si chiama Questa Lo shock MP E quindi Non lo posso Prendere L'elettro terremoto Io pensavo Di poterlo Prenderlo Anche se avevo preso L'altro È andato Sotto livello Perfetto E abbiamo finito La missione Quindi possiamo Oppure uscire Dal gruppo Oppure no Fammi vedere un attimo Distintivo della crescita Infocata Ok Non ti pareva Che l'inventario Qui è No no Gli amici Cazzo faccio Allora Sicuramente È nello speciale Sta roba Oh c'è un bauletto Apriamo il bauletto Vediamo un po' Se riesco ad aprirlo Non ho abbastanza spazio Ma ti pareva Boh Buttiamo il frammento Naso Va To Ah che devo scrivere Getta via Getta Via E vaffanculo Termina subito Alleluia Ce l'abbiamo fatta E mo Che cazzo Bisogna fa Un'altra cassetta Qua ci da Il dungeon Di livello Adeguato Dieci volte C'è sconfiggimento 6 Vabbè Devo sconfiggere Sempre ogni giorno Sì Sì Ah c'è il terzo distretto Vabbè Intanto usciamo Dal gruppo Vabbè ragazzi Ho ucciso Tutti quei dementi Lì I mobbicini Se il video Vi è piaciuto Mettete mi piace Commentate Dicendomi le cose Che vi ho chiesto Nel video Iscrivetevi al canale Se non siete ancora iscritti E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi